Albano e Romina Power di nuovo innamorati? La confessione Albano e Romina Power sono di nuovo innamorati? I due cantanti si sono separati diversi anni fa e da allora nella vita di Albano è entrata Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto ben due figli. Ma ora che anche la relazione con Loredana è finita, i due potranno mai tornare insieme? Le voci su un probabile ritorno di fiamma si sono rincorse sul web fin troppo nelle ultime settimane, ma sia Albano che Romina preferiscono tacere, lasciando sul filo del rasoio i loro fan più accaniti. Inoltre, ancora in rete circola anche la notizia che il cantante di Cellino San Marco abbia una nuova fidanzata, ma leggia il mistero sul suo nome. Chi sarà mai la signora che sarebbe vicina ad Albano? Albano e Romina Power sono tornati insieme? E, questo è quello che si chiede il web da settimane e settimane. Si vocifera di tutto sulla coppia, tanto che la rete è piena di loro notizie. C'è chi vorrebbe il due cantanti ancora insieme, e chi invece crede che sia Albano che Romina siano di nuovo innamorati, il primo di una donna misteriosa e la seconda di un ricco imprenditore americano. Sarebbe proprio questo uomo il motivo per cui la star è tornata negli Stati Uniti. Ma sarà davvero così? Entrambi sono molto, gelosi, della loro riservatezza. Tanto che il settimanale sono nelle scorse settimane a intervista Albano, il quale si è sfogato lungamente sulla situazione della sua famiglia. Sia lui, che Romina e anche Loredana Lecciso vogliono proteggere i loro figli dal gossip e dagli scoop. Albano e Romina Power sono tornati insieme. La coppia di cantanti amatissima sul web da migliaia di fan sarebbe tornata insieme. Anche se ultimamente, il cantante di Cellino San Marco si sarebbe fatto beccare insieme a Loredana Lecciso, sua ex compagna e madre dei suoi ultimi due figli, Jasmine Bido. Tutto è stato rivelato durante una puntata di Vieni da me. Il programma di Caterina Balivo in cui Albano ha detto. Noi stiamo insieme. Albano Carrisi, il cantante di Cellino San Marci, avrebbe rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua vita sentimentale. Dopo la notizia sul riavvicinamento con Romina Power, e tutti scoop che vedrebbero la cantante di nuovo innamorata ma di un altro uomo, ora Albano ha dichiarato. Sono innamorato ma non di Romina. Ci sarebbe allora un ritorno di fiamma con la ex compagna Loredana Lecciso, come attestano alcune foto recenti che li hanno immortalati insieme in aeroporto. In realtà, il cuore di Albano batterebbe per un'altra donna, la terza della sua vita, di cui non si sa ancora niente. Chi sarà la signora che gli ha conquistato il cuore e i sentimenti? Albano è intervenuto nella trasmissione condotta da Caterina Balivo, Vieni da me. Per l'occasione, il cantante si è confessato circa il suo rapporto con l'ex moglie Romina Power, e ha dichiarato. Ma noi due stiamo insieme. L'affermazione ha infiammato subito il pubblico e i fan della coppia sono tornati a sperare. Non sono vere allora le voci che vorrebbero la star italo-americana innamorata e fidanzata con un ricco uomo americano? Non ne abbiamo ancora conferma ma sembra che i rapporti tra la Power e Albano siano distesi, nessun gelo tra di loro.